Ehm, ciao! Oggi siamo in questa bellissima città, Marci, che è quella di Pandaland, perché oggi andremo a giocare. Ti piace? E questo è un mondo copia, ovviamente. Ma tu l'hai visto che siamo stati i primi e i secondi? Sì, l'ho visto. Solo i età abbiamo preso punti più tutti gli altri. Siamo troppo forti. Non ho detto niente. Comunque, ovviamente questo è un mondo copia e oggi andremo a giocare. Ha una sorta di strega comandacolori. Infatti, Marci, avremo tre minuti per prendere più oggetti possibili, inizialmente, di questo colorino qua, che penso ti piaccia molto. Sì, iniziamola. Nulla, ovviamente ce la visuale anche di Marci, lasciate un mi piace, scrivetevi che è importantissimo. E iniziamo subito. Sono partiti tre minuti, ciao, ti puoi muovere ovviamente con quello che vuoi. Sì, sì, ovviamente quando finiscono devi fermarti, dobbiamo tornare tutti allo spawn. Allora, come blocco giallo? Io ho pensato questo qui, che penso però prenderà anche Marci perché è abbastanza facile. Poi in realtà questo potrebbe essere un giallognolo. Mmm, questo potrebbe essere un giallognolo. Come tu hai, siccome... Ma sei sponato lì almeno? Sì, sono sponato lì, però questa cosa non doveva succedere. Allora, prendo anche questo, che potrebbe... in realtà non è molto giallo. Continuai gialli tu? Eh, io ne ho solo due, di cui uno non so neanche se è giallo. Io per adesso ne ho quattro. Ma come quattro? Com'è possibile? Ah, ovviamente c'è il bordo ai mille blocchi, quindi non puoi andare dove ti pare, nel land, queste cose qua. Ma secondo te la sabbia vale? Certo che vale, però mi hai appena messo in testa una cosa. Ovviamente puoi fare tutto quello che vuoi, in senso, puoi fare crafting, puoi... Perché sei qui a fan con me? Eh, perché era l'unica sabbia che ho visto. E perché abbiamo avuto la stessa idea, mi sa? Perché faremo la sandstone. Eh, sì. Sì, 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 sì. Vabbè, però la sandstone facciamo adesso, allora, non che facciamo la cut sense. Eh, no, tutto vale. Oh, anche questo è giallo. Eh, non te lo dico. Allora, questo potrebbe essere anche giallognolo, prendiamo, lo prendo tutto, anche questo per me non mi ricordo come si fa. Ok, la cut ce l'ho. E il resto, come diamo, non si fa. Eh, lo stonecutter non ce l'hai, l'ho già cercato. Eh, lui è capito che si è studiato tutto. Prendo anche una di queste, che potrebbe tornarmi inutile, anche questo potrebbe essere un po' giallognolo. Uh, anche la csss, niente. Eh, allora. Quante ne hai? Io ne ho totale e ne ho tipo sette. Io ne ho un po'. Sette soli? Perché soli, scusa? Io ne ho un sacco. Mi sono venuti in mente un sacchissimo di cose nel frattempo che tu buttavi. Ma il legno non è giallo, però. È come no, lo ha, sì, cosa credi? Ma non è vero. Che colore è, scusami? No, è color legno. È marrone. No, non è color legno, è giallo. No, è marrone. Polesemente giallo. No, vabbè, vediamo, dopo dobbiamo giudicarli insieme i blocchi. Allora, vediamo qua dentro cosa posso prendere. Oh, mi corre il pupo. Ok, ora mi sto correndo. Vabbè, allora, scusa, anche le cose strippate sono gialle, scusami. Eh, io infatti le ho prese. Dai, ma non è giusto, ma non sembrano così tanto gialle. È come no, sì che sono gialle. Però, uh, anche questo è giallo. Un po' poco, però vabbè, io lo prendo. Poi cos'altro c'è di giallo? Abbiamo 40 secondi, quindi abbiamo letteralmente poco. Ah, cavolo, una cosa che... Questa qui è palesemente gialla e non l'ho presa. Penso non l'hai presa neanche tu. Ok, così. Vediamo, dimmi cos'è. Questo c'è un po' di giallo, poi lo prendo. Ma possiamo avere un po' più di 40 secondi, per favore? No, mi dispiace, hai 20 secondi. Come hai 20 secondi? 15 secondi. No, no, lasciami più tempo, ti prego. 10, 9, 8. Io mi sa che non trovo niente. Uh, questo lo posso prendere? Oh, mi serve il silk touch? Come funziona sto robo? No, mi serve il silk touch, mannaggia. È finito il tempo. Fine, time's up. Ok, torniamo al centro. Andiamo, arrivo. Allora, vediamo un pochettino. Iniziamo dal tuo? Allora. Iniziamo dal mio. Ok, ok. Sono tutte valide, secondo me. Sì, sì, sì. Sì, sono tutte valide. Quanti punti hai? Quindi ne hai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 punti. Bravo. Apri pure la mia chest. Beh, sono un po' più di 16, forse. Fammi togliere un po' di cose che non sono gialle. Ma è quello che toglieresti, dimmi. Il jungle è tipo arancionino. Ma non è vero. La chest è marrone. La chest è giallissima. La chest è giallissima. La dripstone. La dripstone, ok, si può togliere. La crafting table non ha niente di giallo. No, dai, non è vero. Il resto la bimbarrel. La chest. Secondo me così sono giusti. Ma la chest era gialla. Scusa, guardale bene. Ti pare che sono gialle queste cose? La chest è giallissima. Ma che... Ma scusa, ma che... Ma bene. Bene, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... L'hai fatta apposta? Quanti sono? Sono 15 e tu ne avevi 16. Allora, adesso facciamo così. Decidete voi nei commenti se la chest è gialla o arancione. Voglio una vostra opinione. Per me è marrone, però va bene. Secondo me è gialla. Comunque, ora abbiamo il prossimo colore che è il rouge. Il rosso. E io non so minimamente cosa prendere di rosso. Anche io sono un po' in ansia, però vedremo cosa prenderemo. Via, sono partiti 3 minuti. Ecco, quella era palese. Non si prendono così comunque, marci, così, spoiler. No, non andare di lì, per favore. Perché non andare di qui? Cosa hai visto? Devo copiarti. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ho fatto prima di te sta roba. Non ho capito. Ho una roba che tu non hai neanche idea. Cos'è c'è di rosso? Non hai manco idea, non hai manco idea. Sono in crisi, a Pondale non c'è nulla di rosso. Allora, io ho esattamente uno, due, tre, quattro. Io ho solo quattro. Anche io ho quattro. Quattro esatto anch'io. Però tu hai una roba più di me, perché tu hai trovato una roba che io non ho. E io sto dando un'occhiata dall'alto, però non vedo nulla. Uh, ok, questo... No, no, ho sbagliato. Non ci sono i... Quelli lì, esatto, proprio quelli lì voglio. Fermo e dammene uno, ok. Poi, 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 cos'altro c'è di rosso in questo mondo? Sono un po' in crisi, sono un pochetto in crisi. Io sai quando non lo sto trovando? Cosa? I fiori alti. Trovati. Io li ho trovati. Uh, qua c'è un villaggio, cavolo, non lo sapevo neanche. Ma su un dito di te, io. Ma che ignoranza. No, c'era la netherrack mai fuori da portato, mannaggia. Oddio. Uh, cosa ho trovato? Cosa ho trovato nella cesta del fabbru? C'ho trovato delle cose, che tu? Hai trovato le mele? Sì. Eh, io la mela ce l'ho. Come c'hai da averla? Perché ho spaccato l'albero prima. Che infame. Apposta. Che infamello, capito, lui. Però io non trovo nient'altro di rosso, quindi mi sa che sono un po' nella cacca, ecco, diciamola così. Allora, guarda, io sinceramente avevo un'idea di che cosa prendere, però dovrei andare in caverna per la redstone, per dire... Eh, beh, è un po' complicatello. Che non so se ne vale la pena. È un po' complicato, è un po' complicato. Dentro il caso ho lasciato qualcosa di rosso, cavolo, non mi ricordo. Ma sai che io quasi quasi in caverna ci vado veramente? Eh, hai 45 secondi, 42 per la zettezia. Ricordate, sono 50, devo andare diretto giù. Devo andare diretto giù, 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 giù. Se la trovi sono tipo finito, perché c'è nient'altro di rosso su Minecraft, cosa c'è? Non lo so, a che livello è la redstone, aiuto! Eh, si può trovare anche in alto in realtà la redstone. Aspetta, però, questo potrebbe essere rosso, questo potrebbe essere rosso in realtà. Il tuo potrebbe essere rosso, non è che mi faccio impazzire così. Beh, questo è rosso, questo è rosso per forza, non puoi dire nient'altro. Ho fatto la redstone, non ci posso credere! Non ci posso credere. Scendendo dritto! Hai 12 secondi. Non ci posso credere! Hai 12 secondi per prendere. Io non neanche che scende, manco c'è una miniera qua, vabbè. GG, 5, 4, 3, 2, 1. No, mi sa che ho perso questa volta. Iniziamo dalla tua, dai! Dai, mi sa che hai vinto, ce ne sono solo 8. Hai trovato il tulipano rosso, non l'avevo trovato io! Eh, sì, è pieno, però ce ne ho soltanto 8 io. Allora, diciamo che la leather è arancione. È rossastra, dai! Eh, te la passo, aspetta, c'è l'arancione da cercare. No, non c'è neanche l'arancione. Allora, te la passo, perché non c'è. Però nello stesso è un botto di vite. Dai, la torcia di redstone, non pu... Questa è rosa, questo è rosa, mi dispiace. Sì, sì, quella è rosa, quella è rosa. Eh, il resto... il resto è rosso. Il resto è rosso, sì. Quindi 1 a 0, perché il punto di prima non si sa chi la prende, anzi, io lo farei patta. Ok, facciamo la patta, dai, va bene, patta. Andiamo col verde, di verde ci sono molte cose, quindi... Eh, il verde è tosto, eh. Eh, c'è bella, c'è tanta roba. È iniziato il tempo, tutte le cose verdi ovviamente valgono. Io prendo questo, mi scusi, signor Steph, prendo anche... Ovviamente puoi spaccare le cose, perché questo è un mondo copia, quindi se vuoi spaccare un edificio... Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Qualsiasi cosa, fai pure, tranquillo. Io prima faccio le cose un po' più... più difficili. Ah, addirittura, ok. Tu non hai idea di quante ne ho, io ce ne ho veramente tantissimo. Eh, il verde ce ne sono molti, ce ne sono molti, molti, molti. Secondo me però mi batti, eh. Mi batti stavolta. Non per forza, non per forza. Questo lo prenderei, perché comunque è verde. Poi posso prendere questo qui. Però per morire, Nico, c'è la Keep Inventory, vero? Questi li prendo, sì, dai. Cos'hai fatto? No, niente, ho preso una cosa verde. Cioè, no, dai, questa cosa diciamola. Allora, i fiori hanno tutti il gambo verde. No, dai, prendiamoli tutti, prendiamoli tutti, dai. Vediamo, vediamo chi trova più fiori. Vediamo, io sto dimenticando sicuro un sacco di cose che sono evidenti. Anch'io, Volga. Ma io, ma io un sacco, eh. Cioè, io considero che non sono ancora dato a prendere la canna da zucchero tua. Eh, io no, le cose nel villaggio le ho prese subito. Io ho davvero tanti, tanti tipi di fiori. Ma proprio tanti. Quindi, così, preparati. Quanti ne hai di fiori? No, tipo 10 per adesso. Io ti dico che ho quasi l'inventario pieno. Io ho l'inventario pieno. Ah. Ti ho un po' di ansia, Nico. Perché vorrei prendere un sacco di cose, ma ho paura di star dimenticando qualcosa. Io sto facendo un po' un volo in alto per vedere cosa potrei aver dimenticato. Quanto manca? Ho 17 secondi. Quindi è praticamente finito. Questo è un po' verdogno. Lo posso prenderlo? Dai, prendiamolo. Finito il tempo, comunque. Uno e zero. Time's up. L'ultima cosa me la fai prendere. Eh no, è finito il tempo. Vabbè, io l'ho preso, tanto nel caso del tagli nel video. No, no, vabbè, ci vediamo al centro. Iniziamo dalla tua questa volta. No, 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 no. Io ho aperto dalla tua. Eh, inizio dalla tua. Oh, l'arbocello non ci ho pensato. Eh, sono tutte verdi le mie, però, vai. Eh sì, sono tutte verdi, quindi ne hai 20, giusto? 20, ne ho 20. Però qual è che hai preso alla fine, scusami? Eh, non te lo dico dopo, vediamo un po' il tuo. Vai, apri pure. Ok, vabbè, il sunflower non vale. Però il sunflower, guarda, che se lo piazzi è tutto verde, vedi? Vedi, come è verde, va bene, dai, lo eliminiamo. Hai preso l'alga! Eh sì, questo, perché dentro il mio palazzo c'è un... Vabbè, questo forse tu lo sapevi, mi dispiace. Secondo me, qua hai vinto tu perché io le canne d'azzucro l'ho preso alla fine. E quindi ok che siamo pari, però se faccio l'onesto hai vinto tu questo ralo. A presto l'onestà, quindi sta uno pari, ok. Adesso il turno del rosa, il rosa in realtà è bello complicato. È perdito il tempo, due minuti e cinquantanove. Io sto già prendendo tutto quello che c'è in The City. Allora, mi prendo anche qui. Il turno del rosa che c'è nella City l'ho già preso. Mi fate prendere tutto e due seconda. E che cosa c'è, scusami? E ci sono tante cose in realtà, ci sono... No, in realtà sono finite le cose. Ah, c'erano i coralli, per i coralli non si possono prendere. Eh, non abbiamo sick touch purtroppo, quello è vero. Eh già, però questo è palesemente rosa, quindi io me lo prendo. Poi... Ho visto quello che penso? 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 Questo lo prendo, perfettissimo. Io non so, io ne ho... Io ne ho quattro. Io ne ho sette. Sette? Come sei arrivato a sette? Sette con dei maghiggi un po' strani, così, un po' particolari. Poi avrei fatto il colorante blu e il colorante rosso. Cosa posso fare? Posso fare questa cosa qui, così? Beh, questo si può veramente. E poi, voilà. Bang, un altro item rosa, perfetto. Ma tu conosci il mercato, cosa vuol dire? No, ma che nel mercato? Sei una birch forest. Non solo nel mercato. Sì, ma non... Cioè, non so quanto possa esserti utile questa cosa. Ho potuto trovare una cosa, però non so se quella cosa lì... Mi sono di nuovo... Ho trovato un altro villaggio. Qua nel necessario può esserci qualcosa di utile? Questo... Oh, scusa, non volevo picchiarla. Questo... Oh, mannaggia. Il viola vale? Cioè, nel senso... Io il purple l'ho fatto. Ok, quindi facciamo che vale, dai. Bravo, bravo, mi piace questo spirito. Ma i mob sono attivi? I mob sì, sono attivi. Grazie. Oh, guarda cosa c'era qui gli smeraldi. Aspetta, questi possono essere utili per tradare quei villager. Vediamo se hanno qualcosa di rosa. No, mannaggia. E questo è tipo... Tu, vieni qui, fermati. Ciao, cosa mi scambi... Perché dici di no? Dice di no, lui non vuole scambiare con me. Qua c'è uno stone cutter, porca miseria. Adesso l'hai trovato? Eh, ho trovato un villaggio, non sapevo neanche dell'esistenza di sto villaggio. Ma di rosa cos'è che c'è? Non c'è niente, Nico. Beh, io ho un po' di blocchi, c'è io in realtà, però... Aspetta, dimmi che c'è la pittrut per appresso. Cosa ho trovato, Nico? Cos'è trovato? Cos'è trovato? Dimmi che quello che penso. E che ne so? No, basta. Penso di aver trovato quello che dava il colorante bianco. Che ci vengono colorante bianco? Sì, 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 mio, 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 mio. No, non l'ho preso, ho finito anche il tempo. Posso prendere l'ultimo, grazie. No, non puoi. Io non l'ho preso l'ultimo, sei un po' scorretto. Dai, vediamo prima il tuo. No, prima il tuo. Ormai porto il tuo, però devo dire che il salmone è una bella trovata. Te lo lascio valido, però... Sì, non è proprio rosa, eh. Vabbè, dai, è rosino, va bene. Apri la mia cesta, apri pure. Ci sono un po' di fungo, forse... No, dai, il fungo te lo faccio passare, però... Eh, però il resto è tutto rosa, è giusto. Eh, sì. Il resto è tutto rosa. Comunque rimane solo il grigio che decreterà il vincitore. Puoi fare pareggio oppure perdere, quindi... Ma il grigio? Cosa c'è di grigio? Non c'è niente di grigio. Vabbè, il grigio va bene, anche un po' tipo nero. Facciamo grigio o nero. No, no, facciamo solo grigio, dai. Rimaniamo nel grigio, ci sto. Va bene, ok. Via, è partito il tempo. Scusa, perché proprio questo lampione entrambi? Puoi prenderne un altro, per favore? No, mi piace molto questo... Grandi, questo non ce l'avevo pensato. Ma come ti sei permesso, scusami? Ok, ciao, vado a rubare altre cose che tu non vedrai perché... Perché sì. Allora, 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 questa cosa qua Marci non può saperla. Deve avere un po' di grigio, giusto, nella cosa? Sì, deve essere... sì, deve avere un po' di grigio, esatto. Grigio scuro anche vale, sì, sì. Grigio, grigio scuro, sì, direi che vale. Qui non c'è nulla di grigio. Questo però non l'avevi messo. Cosa ho visto? Questa cosa penso sia una botta di fortuna assurda. Mi ha sponnotato. Dai, però non è giusto. Ancora grigio davanti. Ma come? Sì, ti giuro, penso non mi è capitata mai più nella vita. Poi, questo è grigio. Poi anche qui... Uh, quante cosine grigie, quante cosine grigie. Ne ho un sacco io, non pensavo di averne così tante. Io per adesso ne ho due, quattro, sei, sette, otto, nove, dieci, un... Io ne ho dodici adesso. Io ho quasi due file di inventario. Anche questo è grigio. Eh, che non è male due file, eh. Poi anche questo è grigio, è interessante. Rubiamola poi, 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 poi. Cos'altro c'è di grigio in sto villaggio? Allora io ti dirò, sfrutterò il fatto che prima ho trovato uno stone cutter. E tornerò dove l'ho trovato per fare tante cose. Eh, vabbè, ma così non vale, dai. Eh, scusa, dovevi anche esplorarti un po' il mondo. Eh, ma io non posso avere lo stone cutter. E come no, c'è un villaggio in questo, in questo bordo, quindi lo puoi trovare anche tu, tranquillo. Una pillager tower. Ok, va bene. Ma come una pillager tower? Guarda, non lo so, non sapevo ci fossero tutte queste cose attorno alla mia città, sinceramente. Però, va bene. Ok, io ho trovato un'altra cosita, però basta, ormai ho finito tutto io. Ok, ho trovato un stone cutter. Ok, così posso fare... Eh, ma non posso fare niente. Ma che cavolo? Ma come non puoi farci nulla? Eh no, perché tutte le cose che si possono fare le ho già fatte. Ho perso solo tempo. Sette secondi. No, 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 lascia un po' più di tempo, ti prego. Tre, due, uno, non si può prendere. Zero, time's up. Ok, l'ho fatto, l'ho fatto giusto stavolta, eh. Ok, dai, vediamo un po' il tuo. Apri pure la mia cesta. Allora, sì. Io direi che è tutto valido. È tutto valido, hai fatto dei craft super, super OP. E ne hai totali. 21, esatto. Ok, puoi aprire il mio. Rividiamo i tuoi. Scusa, ma il granito... Il granito ha del grigio, guarda. Guarda, questo qui, questo pixel qua è grigio. Sembra un po' troppo questa cosa, sinceramente. Eh, però è grigio. Scusa, allora anche questo pixel qua è grigio, no? Guardalo, quello lì è grigio. No, però sì, questo era grigio effettivamente, non era nero tutto. Guarda. Guarda. Ti lascio tutto valido, anche se il bar è l'unico grigio che ha è... E' la striscia. Eh sì, esatto, il buchino. Aspetta, ma io ne ho tre extra. La terra. No, ma per me c'è un po' troppo questo. No, 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 campione, campione, guarda qua. Cosa che ha sopra... Ah, non ce l'ha più, non ce l'ha più. Sì, ce l'ha ancora sui lati, guarda. Sinceramente mi sembra un po' troppo, però... Eh, è fatta, eh. Ti lascio il beneficio del dubbio. Fatemi sapere voi nei commenti chi secondo voi ha vinto e se volete altre sfide di questo tipo. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.